ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare valcap laboratorio terapeutico mr srl ultimo aggiornamento 7 aprile 2022 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni ingredienti a cosa serve valcap è un integratore appartenente alla categoria degli integratori per il benessere dell'apparato urogenitale è commercializzato in italia dall'azienda laboratorio terapeutico mr srl informazioni commerciali titolare laboratorio terapeutico mr srl concessionario laboratorio terapeutico mr srl categoria di appartenenza integratori per il benessere dell'apparato urogenitale forma farmaceutica compressa confezioni valcap 30 tavolette 25,5 g indicazioni valcap compresse è un integratore alimentare utile come coadiuvante delle fisiologiche funzioni dell'apparato genito urinario ingredienti ogni compressa da 850 mg contiene bioflavonoidi da grumi curcume aloe s rosveratolo tè verde s lecitina di soia propoli peperoncino inulina ad o s selenio aminoacido chelato fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato